ci siamo allora ci siamo ragazzi belli miei quindi mettiamo la sigla della mettiamo la sigla bella precisa della per quanto riguarda il timer il per due è già attivo comunque per due è già attivo perché ieri è uscito il per due di nuovo andiamo che palle se pubblicità stavamo con il pisello che si vede bello preciso io andiamo vai ruota spin time vai grazie mille fiorellino grazie mille fiorellino 10 messi di resa grazie mille bellissimo bacio enorme grazie mille bellissimo il problema gaia è che ci sono anche i jolly è quello i jolly rimuovono il timer e quando finisco la ruota rimetto tranquilla fidate tutto quando calcolato mi segno mi segno tutto qua qua scrivo su un pezzo di carta tutti i minuti dopo li aggiungo dopo io ciao michele che ne pensi della mancimpazione femminile che ne penso che le donne porca troia sono veramente delle grandissime io non so che cosa vuoi sapere tu io che cosa ne penso delle mancimpazione femminile io penso che te sei una persona che non lo so emancipazione non mi ricordo che cazzo significava ma quando stiamo a scuola stiamo sulla live di matta ok se emancipazione femminile non era con il suffragio universale non c'entrava niente non c'entra non mi ricordo che devo dire non è che cazzo vai non penso sia una live dove se parla di questo Allora Per 10 secondi sono 1300 secondi Ci metto un'ora per finire Tranquilla Allora iniziamo 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 Primo giro Vai Iniziamo i giri di Scania D 5 minuti Allora Nammo secondo giro Niente da fare Scamma Terzo giro 20 minuti 20 minuti Vai col te Col quarto giro Quarto giro per Scania Team 20 minuti Marca Eva Bella precisa Io ho 10 minuti 10 più Io Grazie vinci 14 16 mesi Grazie mille 5 Vai Musiche esotiche Più 40 Vai Sta scritto tutto qui Quando riguarda la ruota Sta scritto tutto a schermo Basta leggere Io Eh non lo so Io giro Giro Non lo so Io giro Raga Sto a segna tutto Segno Niente da fa Tranquilli che è ceduto Oggi Niente da fa Vai Oh due scamme di fila È un po' entusiasmo Qua c'ho bisogno Della mano Lusi c'è Qua 15 minuti Vai E che c'ho l'ansia Che mi sermagna Ragazzi Che c'ho Di là C'ho di qua C'ho Veramente C'ho un casino De roba Io sono abituato A fare cose lentamente Con calma Precise Mi è svegliato 8 ore E purtroppo Ripeto Oggi è successo Una cosa straordinaria Quindi ecco Allora Andiamo avanti Altro giro Vai 5 minuti Vai C'è Lucy Babbo Qui Che mi può dare una mano Lucy Dammi una mano Se puoi eh O tu babbo O tu Lucy Perché mi serve una mano qua Namo Yo No 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 Ho tolto gli scam Che sono usciti 5 minuti Ho bisogno di una mano Babbo Lascia stare lì Dopo ci iniziamo da Lascia tutto su Ci iniziamo da Andiamo un po' Jolly Allora I jolly Come funziona ragazzi I jolly Allora io ogni volta Che giro Babbo Tu mi devi dare una mano qua E segnare E scrivere Capito qua Cancello Devi cancellare E segnare Quello che scrive qua Capito Ogni volta Più 5 Più 5 Ogni cosa che scrive Io devo scrivere Va bene Io cancello qua E scrivo gli minuti Ok perfetto Allora I jolly come funziona Si rigira la ruota Tutto quello che esce Si cancella Tutto quando cancella Vai Gorgiro Vai Sì 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 Esatto Vai 20 minuti Ok Si rimuove Tutti quanti 20 minuti Gorgioli So che tu vedi qua Sì adesso Perfetto Fai più Più Allora Vai Giriamo la ruota Vediamo che scappa Vai Vediamo Vediamo 40 minuti Altro giro Vai 100 minuti Vai Altro giro Vai Io Che senso c'è il jolly Il jolly c'ha senso Perché il jolly Significa che rigiri la ruota Rigiri la ruota Se te sta bene Questo Questa è la ruota mia Se no ragazzi Io ve l'ho detto Potete pure E' un affanculo Come cazzo Vi pare Eh oh Mi sta a dire Che senso c'ha Ma se no non li leggi Vai andiamo avanti Io Altro giro 5 minuti Io 10 minuti Io Altro giro Vai Se la ruota finisce Si rifà E poi abbasso i secondi Tranquilli Sto correndo Perché ci abbiamo Tanti ciri 10 minuti Altro giro Io Nammo vai Quaranta minuti Vai con un altro giro Di ruota Io 5 minuti 5 minuti Io Altro giro Ma che tombola Ma che è la cosa De carcio 10 minuti Vai Vai Altro giro Vai Vai 10 minuti Vai Altro giro Ancora Vai Se sto a meno giri La riaggiorno 10 minuti 10 minuti Sì esatto 10 minuti Vai io aggiungi 10 minuti Scania Scania Sì 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 Scania Io Altro vai io Se giro ancora Io Stavano per aumentare il timer Quello in alto a destra Ragazzi 5 minuti Tutu 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 Ho ancora niente per 2 10 minuti Via Altro giro Di ruota 40 minuti 40 minuti Di applausi Più che altro Vai Minchia, 90 minuti Andiamo 5 minuti, via Altro giro 10 minuti, vai 10 minuti, io Minchia, raga Cioè, me li sto a segnare perché ci sono anche i jolly, Gaia Vuoi capire? Io 5 minuti Porca troia E ieri, laga, ci sono state le donazioni ieri 5 ore? Tanto tutti 5 ore 5 ore che ci scrive? 6 minuti 6 per 5 e 300 minuti Yo Dopo abbasso la ruota, cioè nel senso la... Diminuisco il tempo 5 minuti, vai Mari, dai, raga C'è il jolly Il jolly Il jolly, raga Volete capire? Non devo spiegare niente Yo Yo Non capiscono 5 minuti Vai, metti, metti Altro giro 5 minuti Vai 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 Altro giro Yo 10 minuti 5 minuti 10 minuti Vai Yo Gire 5 minuti 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 Poi faccio pure l'upaccianca Dopo farò Dieci minuti Vai Una poesia stupida dimmi tutto Quello che vuoi Ma te mi sto a fare il revocio di tutti i tuoi best off Mi sto a pisciare risate Grande Adriacan per io Dieci minuti vai Il per due degli screen l'avrò già fatto Per due Per due Per due Per due Dopo te lo dico se esce un altro Minchia Io Quale critica Altro giro Ah Jolly Quindi non metto il giro qui 5 minuti Vai Quando esce il jolly Non devi mettere il giro che gira Io ho 90 minuti vai Jolly che ti compare il giro Vai Altro giro Per due Per due di giro Io Quindi più Per due Per due Per due Poi metti più Ok E qua il giro Per due più Per due più Esatto Aspetta un attimo Aspetta fermate Questo era un jolly era Sì era un jolly Devo un attimo fare una cosa Per accorciare un po' i tempi Perché oggi c'ho pure un ospite in casa Non avessi avuto l'ospite Facevo un po' come volevo Però Per l'ospite Allora Perché comunque Pure una certa Anzi c'ho due ospite Addirittura Metto Tre secondi a giro Tre secondi Tre secondi a giro Metto E via Share Allora Eccoci qua Allora Pronti con un altro giro di ruota Sei pronto? Sì Allora Vai Cento minuti Dieci minuti Vai Devi correre Vabbè Gliela fai? Sì sì Vai Vai Dieci minuti Dieci minuti Dieci minuti Dieci minuti Dieci minuti Peccato che si sminuisce L'evento che è stato Ovvero Che quale Sminu... Cioè non capisco 90 minuti Qual è Il... Si sminuisce in che senso? Non capisco Perché si sminuisce? Ma non stai rispondendo Dai Grazie Ciccio 19 mesi di resab Grazie mille Bellissimo Un bacio enorme Grazie mille Vai Cinque minuti Venti minuti Eh sto a fare tutto di fretta Raga Purtroppo ripeto Purtroppo ripeto Ho un ospite in casa Ho Enrico in casa Stavo facendo una live di cucina Oggi c'è stato un altro tipo di evento Un'altra challenge Un'altra roba Ho dormito cinque ore Raga Purtroppo Eh Digli ho portato qualcosa Vabbè Cioè Che cazzo gli devo dire Ragazzi oggi c'è stato Uno straordinario Su straordinari Straordinario Su straordinario Non è Cioè Purtroppo ci può stare Abbiamo fatto pure Un content Al mare con la Lusi Non è che si fa tutti i giorni Vabbè Dieci minuti Iscrito? Sì Vai Venti minuti Io Venti minuti Questa non aggiunge niente Vai Altro giro Cinque minuti Dieci minuti Quaranta minuti Quaranta minuti Ma domani è uguale Domani sempre che Cioè Non Vabbè Cinque minuti Cinque minuti Cinque minuti Cinque minuti Dieci minuti Cinque minuti Cinque minuti Cinque minuti Cinque minuti Lo so che non fa nemmeno un giro completo Purtroppo ripeto Purtroppo ripeto Purtroppo ripeto Ho centotrenta giri Raga Centotrenta giri Non posso stare qui Ripeto Lo ripeto Perché Io mi rompo pure lì Coglioni ripeto Sempre quello Ci abbiamo due ospiti Dobbiamo finire la cucina Su Allora io Cinque minuti Vai Cinque minuti Io Zio Non c'è senso che giri Escono tutti Zio Au Zio Sta scritto a destra Jolly Rigira la ruota Rielimina tutte le caselle Zio Stai zitto per favore Non romper cazzo Allora Dieci minuti Posso manco metto esatto Tutti abbonati Su Porco Troia Quaranta minuti Cento minuti Cinque minuti Cinque minuti Cinque ore Cinque ore Cinque minuti Dieci minuti Cinque 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 minuti Dieci minuti Cinque minuti Cinque minuti Dieci minuti Quaranta minuti E che faccia devo fare scusa mi peragota Trenti minuti Oh adesso viene il jolly Per il jolly ragazzi Praticamente questo qua è l'ultimo giro pure per Scania Team Giro la ruota Quello che esce poi Va tutto tolto ok 20 minuti Quindi questo era l'ultimo giro per Scania Team giusto? Si Perfetto Qua ragazzi stiamo scrivendo tutti quanti i minuti Tutto preciso tutto perfetto Tutti i minuti precisi Perfetti Allora Andiamo avanti qua con qua sotto Adesso è l'ora di Bot Brown Questo è per te Bot Brown Vai Vai Bot Brown Segno sempre qua Più Qua sotto Continuo sempre Si Cinque Tutto 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 Allora questo qui Non segna niente Non mette in giro eh Allora riguriamo Vai Vediamo un po' che scappa fuori Ok si rimuovono tutti Dieci minuti Dieci minuti segna Ok andiamo avanti vai 40 minuti 90 minuti Niente da fare Purtroppo Allora vai Per due per dodici ore Metti Il giro Fai Sì più per due Più Due Sì più Sì fai più Perfetto Ok per Bot Brown abbiamo finito Facciamo cambio No no tranquilla Vedi che accendere il forno e mettere dentro Perché non riesce a Ah cannelloni pronti finiti? Sì sì Dobbiamo mettere dentro il forno Non so se c'è del forno No Accendo io Allora accendo io Allora Ok ma qua tutto Sto pronto già Dai va bene Ho corso Tranquilla tranquilla va bene va bene Ma io cosa devo fare eh? Aspetta ti lascio il tuo No ma va bene pure Stammi padre qua Se vuoi puoi stare qua dietro Allora dicevamo Precisi Final FX Final FX Quanti giri? Porca droga Un cimitero Vabbè un cimitero Vai Aia sta per scappare subito Quante? 5 minuti 5 minuti 5 più 5 5 Altro 5 vai 5 minuti Tutto Tutto segnato Lore 10 minuti Abbiamo fatto solo finora Bot Brown e Scagnatim Finora ragazzi E ci abbiamo Guardate qua 5 minuti Che era? 5 minuti Ci abbiamo tutto questo raga Cioè solo Scagnatim Non è raga Vai 5 minuti Vai 5 minuti Niente 5 minuti 20 minuti 10 minuti Ragazzi ieri è successo qualcosa di incredibile Cioè tutte quelle donazioni 10 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 10 minuti 5 minuti 5 minuti 40 minuti 10 minuti 40 minuti 10 minuti 10 minuti 5 minuti 90 minuti 5 minuti 10 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti Daniel Marafone Daniel Marafone 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 10 minuti 5 minuti 5 minuti E dai, gira! Adesso tocca a Mattia, un giro Io, Mattia, un giro, 10 minuti Mi tocca a Mirko S. Ruma, un giro 40 minuti Mi tocca il covo di Panda, un giro Covo di Panda, un giro Porchè! Per due Mo tocca No, questo domani Covo di Panda, era l'ultimo Domani, domani Poi ce ne abbiamo altri due, comunque Non so di chi è, ma altri due giri qua Questo non lo so Due giri, vai Tu basta che segni, non lo so Vabbè 10 minuti 10 minuti Non lo so Novanta minuti Aspè, no Grazie